E' stato condannato a sette anni di reclusione il 57enne marocchino, accusato di aver violentato sotto minaccia di un coltello lo scorso giugno una trentenne. L'abuso si sarebbe consumato in zona Cappuccini, in via Curina, ad Arezzo, all'interno di un complesso residenziale abbandonato da anni, diventato così un alloggio di fortuna. A denunciare quella notte da incubo era stata la stessa giovane, che aveva raccontato di essere stata attratta con l'inganno dall'uomo, che poi l'avrebbe picchiata, minacciata con un coltello ed infine costretta a subire ripetuti abusi sessuali. Il marocchino, all'epoca dei fatti, era da poco uscito dal carcere per una precedente grave condanna. Poco dopo la denuncia per lui erano scattate nuovamente le manette. Adesso i giudici del Tribunale di Arezzo hanno ritenuto credibile ed autentico il racconto della giovane aretina, il 57enne, così resterà in carcere. La difesa dell'uomo ha intanto già annunciato il ricorso in appello, il 57enne ha infatti sempre parlato di un rapporto consenziente e di una notte in preda ai fumi dell'alcol.